Ciao a tutti e ragazzi! No sense! Inizio io! Ciao a tutti ragazzi! Sono Paparus in compagnia di... Sense! Esatto! Almeno il tuo nome te lo ricordi, eh sense? E siamo qui a giocare a... Battlefield 1! Ci mette troppo tempo a finire le mie frasi, sense! Battlefield 1 versione Snowden. Molto cattivo. Dovremmo sparare i nostri migliori amici, basta io ho già venuto il gioco. Con che stiamo combattendo, sense? Mi piace questa mappa, dame il joystick! Non mi piace! Siamo tedeschi! Contro gli italiani! Nooo! Ho sbagliato anche classe! Nooo! Oh mio Dio ma che bel gioco che hai comprato, sense! Che cosa è successo? Dobbiamo giocare molto... Facciamo una morte a testa? No. Come l'altra volta. Ma no, dai sense! Ok facciamo così. Oh! Questa volta però vado io. Una granata alle spalle! Scappa! 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 Oh! Ecco qua! Mi sono scavato un buco sotto terra! Ma che sta succedendo in questo mondo? Non è come la underground! Lì ci sono tutti amici! Qua si odiano tutti! Sì, è vero, sense! Vai! Prima puoi sparare! C'è nulla! C'è una porta! Che... Che sta... Guardami! Guardami! Guardalo! 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 Ho sbagliato! Ho sbagliato! Non ho messo automatico! Non l'ho messo in automatico! Ho sbagliato! Ho sbagliato! Wow! Sì! Ho sbagliato! Ho sbagliato! Sbagliato! Wow! Sì! O almeno... Vai! Vai! Fasco! Sempre automatico! Oh che cavolo! Me la sono buttata in faccia! Guardate è vero, è vero, è vero e poi non ci può incidere senza avere massa di coscienza! È stato totalmente inutile! Lo sai di underground! Che sta succedendo? Mi eh hanno chiuso fuori! Siete dei maledetti! Ok papà, ora tocca a te Stai lontano, non ti fai male Uccidi da lontano Pensiamo solo a uccidere Non siamo solo Assassin's Creed Però è saltato questa rozza Però questo Forse si, è Assassin's Creed Non andare con la pistola La pistola è come un puntaspilli Non fa nulla Non fa danni, giù a terra Compagno cecchino mi sparano Com'è fatto a colpirti? Compagno cecchino mi sparano Compagno cecchino mi sparano Da sopra l'atore, sopra l'atore Dove? C'è sempre un camperon Ardeola Preso Soperto il camperos E' mancato, gli hai lasciato Sì Assistenza a soppressione L'hai colpito il suo cadavere Non ha un grande E' un cecchino quello C'è sempre un camperone di sopra No Almeno quasi sempre Mi tira il piede? E mi abbasso Di solito c'è sempre un distributore di camper La sopra Quando ne muore uno ne viene fuori un altro E' un nemico quello Improvabile Di nuovo, di nuovo, di nuovo C'è posto Nuovo Tak No, non va Non va, lascia vedere Ma cosa ti ha preso? Qualcosa di cattivo ti ha preso? Che sta succedendo? Stiamo in crisi E' gli angoli Dov'è? No, non so L'abbiamo perso No, no, no No, no, no No Ora posso poto tocare io? Vedi quelle stelline? Sono gli acimento delle medaglie E cosa tieni con le medaglie? Ehm, stelline? E che ti serve le stelline? A rendere bella l'arma? Mi sembrava un rantolo di odio Ma sono entrato a metà partita Come facciamo a essere già 88-93? E vabbè, le faremo a tu chi sei Cosa c'è terra? Però c'è che gli spavano Ho fatto un quiscopo E l'unico problema è che l'ho mai più mancato E poi che non mi piace Che vanno a rallentatore Vanno troppo a rallentatore Beh, in effetti Che sta succedendo qua sotto? Gente E l'ha anche tanto Qua resta Chiedete, maledetti Bravo, sens Double kill Sei stato bravissimo No, rivivi Rivivi È morto No Un nostro compagno se n'è andato Però abbiamo fatto una double kill Questo mi importa Bravo, sens Sono fiero Allì in fondo Non c'è nessuno O forse sì Forse sì, a terra, a terra Sparo lì sopra Vabbè Camberone E questa non ve l'aspettavo Oh Abbiamo Siamo entrati a metà partita Però va bene Non importa Sei stato bravo comunque No, bravo di me Te lo concedo Sistemiamo tutto alla prossima Siamo tornati E giocherò con l'assalto questa volta All'interno della foresta Che bel vordaio Ma che come funziona Così Non ti faccio vedere Aiuto Non ti faccio vedere Credo che ti stia odiando O più che altro Mi sta odiando Sta odiando me Usa la granata L1 L1 granata Granata potente Ti ha rilanciato la sua granata A terra L'hai colpito Sì No, quello alleato Tranquillo Medico Medico Non funziona così in questo gioco Medico Oh, eccola qui Sì, ti ha curato Ti ha curato Io, bravo medico Buttando lì una scatola Tu devi prenderti le caramelle Per curarti Funziona così in questo gioco Perché non posso correre Ah, ok Posso Cosa sta Un amico Un amico Ah, l'hai ucciso Sono un grande Noi chi siamo È contro che combattiamo Perché stava fluttuando quel camperone Chi siamo È contro che combattiamo Siete crocchi Siete contro gli americani Ah Oh Mangiappolini Tutti i trampisti Tutti i trampolini Che c'è Trampolini Hai fatto Quattro kill Qualcosa di mostruoso Dietro di No, sto scherzando Che è quasi finito L'immunizio Aspetta Aspetta È la tua classe Ha le munizioni Che puoi distribuire Pulsante destra Ah, no Ho sbagliato È la supporto Tu hai la dinamite però Mi hai dato falsa speranza Sess No, beh Dopo senterò tutto Tranquillo Basta Troppo aperto Per i cacchini Spero Troppo aperto Per i cacchini Vediamo poi i cacchini Devo bere Lì, lì, lì O forse No Sì, no Sì Ok, ok Ok Adesso Adesso Assistente a soppressione Hai preso Dieci punti Munizioni Fregare l'arca È un soldato morto Vai, non è una cattiva idea Avanti, avanti, avanti Rifornimento Che ha rifornito Un tipo Bravo 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 Credo che abbia capito Il tuo amore per lui Che qualcosa ti ha sparato Però mi metto un mortaio Sono frequentissimi mortai Qua Dice qualcosa No, diventate tranquillo Tranquillissimo Allora C'è solo la guerra Non ti ha piaciuto questa zona Me ne vado Non te c'è solo la guerra La gente che spara Stai tranquillo Stiamo tra quelli Ma c'è un altro Copassi Rischiamo solo Lesioni gravi Morte Tipo questa Adesso però voglio fare Chi è chiamato Quello che ti ha ucciso È morto Maledetto camperone Così no È morto È morto Non è un camper È quello che si meritano Ora voglio provare il medico Ossia Lo scacciacani O meno Tutte le carabine Sono scacciacani Guardate un'arma forte Ha una carabina Automatica Scusa Guardate il supporto Ha un mitagliatore Però ritengo Che sia più forte Quella d'assalto Ah Proprio munizioni E spara Con un bel milino Oh oh E' automatico Spara Che maggio panini Spara il maggio panini Oh Mi hanno giocato la kill Gli americani Sono troppo grassi Per scappare Ripararsi Hanno troppi panini Nell'arteria Questi qui Ti ho preso Ti ho preso Ti ho preso Ti ho preso Però l'ho ucciso Però l'ho ucciso Mi ha ucciso Bravo Bravo Sesso È perché ho sbagliato Con la carica Ecco perché sono morto Ora vuoi provare di nuovo Il camperone Guarda che gli americani Gli sono in di nuovo L'underground Visto che trappa Sopra essere No Non si parla No Costruirò un'altra barriera Sull'underground Il muro O almeno così Ho sentito dire Per evitare Che tutti i mostri Messicani Arrivino in America Ma chi ci vuole più andare Di ormai Eccone uno Killalo Dai L'hai perso di vista Forse ti ha visto anche lui Ok l'hai perso Però gli hai fatto Moltissimi danni Non uscirà vivo Infatti Assistenza di squadra Conta come uccisione Quindi quello lì È praticamente morto Vedo degli spari Ma non vedo nulla Hai sparato a vuoto Ma hai sparato No mi dispiace Sì lo so È un casino Spari in questo gioco Quello l'hai Mancatino 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 Non era Non lo so Sto riparando il lezzo Eccolo lì Eccolo lì L'ho visto L'ho visto L'ho visto L'ho visto Prendi l'assalto Ho sbagliato io Volevo dire crocchi Ma siamo noi crocchi Siamo pari Siamo veramente competitivi A volte Sassi Puoi fare grandi roba Se te lo giochi bene Il mio problema È che non ho mai voglia Questo è uno del pochissimo No tu devi trovare la voglia Sassi Ora ti faccio degli spaghetti Eee Bravo Sassi Sassi Prendimi ora Prendimi ora Nooo Eh me la son giocata malissimo Guardate come torta di papainos Ne avevo due dietri Ah che c***o la mia è un mitragliatrice pesata e correzzata come la miseria dietro io Come la miseria No Così la papaino No Ecco fin assalto E' quella col mitra lo sai Ha in nuovo senso Ha in nuovo La vedo molti spari Dove sono spari ci sono amici Dove ci sono amici Non si vedono senso Non è solo che tu puoi vedere Temo quella mia vita 60-62 Dobbiamo recuperare O almeno un po' Qualcosa Lo stesso punto dove sono morto io prima Eh vita a quel punto Esatto Qualcosa di terrificante Ora voglio stare insieme alla squadra Usa il medico Sembra una buona possibilità Ciao gente che c'è qui Oh devo curarti giusto Dice qualcuno che sta morendo Venite a prendermi vivo È una granata No aspetta sto morendo anch'io Vediamo un po' Mi butto le cure da me Io ora rivivo tranquillamente Anche se avessi una gamba rotta Come toccare i schiuti E io appunto Io non so campionare Tu sei un morto vero? Ok si sei un morto Tranquillo Un morto No 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 Nel gas no Perché non si vede nulla nulla c'è un compagno morto resisti no che fa per un coro e cioè voglio dire americano non vivi vivi un kit flamier no è una zona di frontiera è una zona melacciavato oh beh tanto non mi interessava non puoi recuperare vita con quello ma ti posso curare i medici? beh in effetti mi doveste portare sempre dentro i medici guarda che disastro che coppia oh ho finito le granate oh che cavolo è una hotland portatile conosci alfis anche tu? ok non la conosce nessuno che peccato siamo solo i due che la conosciamo che sta succedendo in questo mondo? io me ne torno nell'underground addio SOS LA! 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 SOS! bravo! non me ne ero accorto e qualcuno mi sembra di aver visto qualcuno muoversi ma erano solo delle foglie qui invece ma stiamo tornando questa qua è la zona per il monte Ebbot dove l'umano è caduto? non penso senso spero! spero! a qualcuno piace laggare? scappa! me la sono giocata bene però fucile a trincea non potevo farci nulla com'è il fucile a trincea? è un fucile a pompa che ti apre in due niente di che oh quanti punti siamo? 86 e 87 dai che possiamo recuperare è caduta la situazione questa qua è il mierino quindi puoi ritenerti abbastanza fortunato però spara leggermente si è premium per caso me l'hanno regalata che ti l'ha regalata? il gioco per averlo più ordinato? aaaaaa che voglio bene i miei panni si qui non vedo nulla di pericoloso a parte quegli spari d'imperolontanza un camper! un camper! un camper! si lo so fa abbastanza schifo l'hanno se negrata L1 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 veloce e rapido bravo! ah già non sei medico quindi no! però lo hai colpito lo hai colpito 95-92 dai che possiamo distruggerli nessuno? nessuno? si! no! si! no! c'è 97-92 gli stiamo distruggendo 98-92 non possono più vincere ormai a meno che non arrivi non arrivi si! siamo i vincenti vai! si! vai! dammi il professe abbiamo giocato decisamente molto meglio di loro esatto! vediamo come siamo sulla classifica 1400 per 1200 no 1,25 problemi nei calcoli no solo 9 minuti beh stati molto rapidi nonostante non sia simpatizzante dei crocchi vediamo se siamo in classifica dei primi dobbiamo essere per forza vediamo un pochino no! non siamo nessuna vediamo un po' se ci danno vediamo se ci danno dei battle pack almeno vediamo eeeh no! vediamo un po' sono la tabella saremo meno a metà classifica oh! sesti! metà classifica 8 kill 7 morti eeeh perchè erano della mia squadra aaaaah ok credo ci siamo divertiti abbastanza diamo un saluto a quelli che ci stanno guardando eravamo sesti su sesti su sesti su dodici metà ok beh contando quelli sotto di noi siamo anche abbastanza messi bene esatto 8 kill 7 morti è moltissimo benissimo quindi ragazzi il gameplay è felice qua eeeh felice tu una frase te l'ho concetto perchè è stato bravissimo ciao a tutti ok prima era sempre un semplicissimo senso papai ero solo e siamo tornati io che tanto la voce non cambia molto eeeh esattamente esatto dovevi dire siamo turchi ragazzi io riusci di smaul spara inglesi stavo già cercando i cavalli però non ne trovavo ok è una mappa conquista? ok no quindi allora detto me c'è uccidere noi attacchiamo i gameplay normali a quelli di senso papai ragazzi ci ho visto maledetto è fatto un po' schifo no perchè di solito la carica è molto OP si cioè noi attacchiamo i gameplay normali a quelli di senso papai così magari scoprite che i nostri gameplay normali sono divertenti ecco che magari che molti di voi pensano che i nostri gameplay non sono belli beh in effetti beh si non siamo mica pessimi insomma facciamo abbastanza leader quando sappiamo abbastanza leader quando sappiamo abbastanza leader beh non siamo depressivi almeno esatto di sicuro abbastiamo un po' i toni perchè il mistero deve riprendersi la voce ok beh lui deve abbastare i voci le voce questo che play stavo quasi per morire mentre facevo eh si in casa mia ed è qualcosa che potevano indagarmi per omicidio esatto eh non lo so ah la carica la carica dove devo andare dove sti campi in realtà sei un cecchino per questo perchè non ha aperta la porta che ha fatto un un'onda uso la forza un cavolo sono esposto troppo eh ecco ne uno l'hai preso sulla schiena e l'ha fatto abbastanza male l'hai preso sull'aria no no vieni fuori vieni fuori si si ti ha visto assistenza kill mi sa vabbè assistenza kill mi piace hai fatto 70 punti guarda che tanto stiamo vincendo fuori la pistola aspetta tempesta di sabbia ora non si vedrà nulla peccato per il camper peccato per il cecchino sinistra mi sembra non mi sembra di aver visto qualcuno ok niente 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 che cavolo ah ok si c'è qualcosa di c'è qualcosa di terribile alla tua destra no no non c'è nulla non c'è nulla fa solo ok però succede con la tempesta di sabbia niente solo che non si vede nulla sono interagibili vasi o mio dio però li puoi trapassare i miei edifici ci possono restituire completamente se usi mi sembra di aver visto di sì una volta ma che spara granata a caso qualcuno forse usano un mortaio non lo so mi sa che devi lasciare un po' questa zona è un po' calda no è un po' scarsa sono abituato a parlare ancora da 6 non so non mi capacito ancora mi viene solo da dire stress l'ho visto ok potevi decisare no non la parla mi sa che hai tirato una carta una cartonata con la pistola ma io pensi che hai i corpi dei nemici devo semplicemente metterci sopra ecco qui il fucile ok hai preso le sue munizioni basta ma è brutto così io preferisco che ci sia da solo certo è più realistico ma se abbassi lo sguardo muori ok attento l'hai preso sulla gamba e conta come uccisione però ok no no quello lì era nemico quello lì era nemico 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 quello lì sopra scappo 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 andate dove ricaricare il fucile no beh si in effetti non è cattivo sopra ora trovo riparo perfetto possono volare con queste condizioni oppure non vanno possono volare però non vedi nulla quindi per prima suicidarti ci dovrai avere appena appena a trovare noi se stiamo sbagliati così mmm siiii ecco io ho visto però eh si l'ho visto anche io ho malapena l'hai preso l'hai fatto male gli hai fatto mi dispiace mi dispiace mi dispiace mi dispiace si è morto si è morto ah è stato bravo eh perchè lo usavano anche in guerra queste tattiche qua eh però eh lo guardavi da sopra le cricee si buttavano per terra perchè così facendo venivano scambiati per morti eh ma questa non era una trincera si infatti è una strada e questa non è proprio la vita reale ecco beh infatti e tipo se sei tipo se sei in compagnia agli altri 100 soldati ti sta attaccando è ovvio che eh sparano agli altri che sono in piedi non sai che sei per terra però se sei da solo eh punto no non ha tanto se sei in mezzo alla strada era convinto magari di ripararsi meglio hanno detto oh ma che fa sto qua fingeremo li vedo qualcuno vedi simbolino rosso mi sa che la c'è il caposquadra caposquadra bravo davvero vai nel nel mureto lì ecco lì va avanti no mi sa che si sono già passati dai nemico eh no ti ha visto eh volevi una granata ah beh basta che vuoi dire una granata dipende ok stiamo vincendo abbastanza bene eh ah stiamo vincendo però stiamo vincendo questo qui è un amico di madrepatia turca eeeh una bella granata lì dentro nooo fanno e ti esplode la dinamite in faccia no no deve essere tutto girare così con la mano rivellina ti ha visto almeno sotto queste partizionate sì non come in black ops 3 che ci metteva più tempo a sdraiarsi calzarsi prendi rubo i cuscini mi sa che ti ha perso di vista e non puoi rompere un cuscino meno no così di classe non buttarti come è morto per una caduta perché tocca a me perchè sei morto no dai stai andando benissimo poi si lo so ed era concentratissimo io non ho capito non ho capito perchè sei morto di solito non succede io sono morto a ritardo prima a terri e poi muori e si capa guarda guarda sono fatti bene di spawn ma poi c'è da quello lì il corretto del mondo no no non rivelo a morire non morire te lo hai buttato la siringa nel culo anche a te e' quasi ho visto uno che tipo c'era tipo 10 morti in una trincena e' andato lì su ragazzi sono chiamato brink ora che ci penso quando un tipo era a terra non era morto ma che cavolo poteva essere rivissuto diciamo e un medico gli sparava una pillola maledetto stavo ricaricando un medico gli sparava una pillola adesso qua gli dava una pillola lui la prendeva e si alzava con parecchia vita non mi ricordo una pillola si alzava con tutto fu il vita si gli dava una pillola il ferito che era a terra immobile come morto la prende e si salva per una volta c'era un tipo 5 medici a terra oppure c'era un medico un medico io cominci a sparare hanno tanta vita gli soldati i nemici ma anche te i canna vita io comincio a sparare il medico fa in tempo a dare la pillola all'altro ops quindi il medico cade e l'altro però si rialza guarda che stai si è schiestato brevissima eh no perchè ho fatto casino non me lo ricaricare il medico cade a questo ho sparato però è riuscito a dare la pillola all'altro che si rialza gli dà la pillola all'altro medico io sparo all'altro che cade ma ormai gli ha dato la pillola all'altro ah è vero devi giocare a te vabbè il medico cioè praticamente io sparava uno e l'altro si rialzava eh si sa fare un po' in ritardo perchè devi calcolare una granata sotto al cuo eh posso rifare ok però uso lo scuso a lo scout stavolta mi metti il cecchino che è meglio però è stato bello vedere come ti è esploso una granata ma che capuuu è stato bello vedere come cercavo di scappare dal mio destino allora arriva la granata uno due tre una granata boom non se ne accorta no la scena di prima è epica se morivo così era bello eh vedi infatti a me sa che aveva il mortaio almeno avrei vedere meglio io mi trovavo meglio perchè si affected perché sono più avvantaggiati qui negli edifici con le hine no 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 you no 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 no� virate wilkora continua ma fate avanti con la pistolina da d loukara mia atta l'algunnici alleうrema è una delle migliori delle pistole L'unica roba strana del gioco La prima pistola è quella migliore Quasi C'è quella più forte In pratica Delle semiautomatiche Delle semiautomatiche Poi c'è il revolver automatico Che vabbè ma quello la devi Usare i punti Beh era preso bene Se è caduto Non riesco ancora a capacitarmi Porco quel cazzo Non riesco ancora a capacitarmi Come sei morto Prima che si è caduto da un piano Non riesco ancora a capire come Guardate che c'è tipo proprio il buco per una feritoia Una feritoia fatta a mano Fatta in casa Con le bombe Eh ti avete visto Ma vaffanculo gioco di merda Dov'era? Era un camperone come te Ecco perché non campero mai succedono ste robe Medico 89 e 65 Voglio provare a fare tutto Fino alla fine del No No Non morire Non morire Guarda che va E' morto E' morto Ah non posso neanche scattare dopo che fai la carica Eh si ma poi non puoi andare a camminare What the fuck Brutta fine Granato anticaro Quelle potentissime Fantanze Sono potenti quelli anticaro Ecco se sono anticaro In confronto a quelle A quelle impatto le ho tolte Perché sono un petardo Non mi avete fatto spawnare vicino a No vicino alla tua squadra Tranquillo A meno che la tua squadra non sia vicino a Ah 96 a 100 96 a 75 Mi sa che poi fai qualcosa Non capisco dove arriva il nemico Eccolo No E Quale ha corattato? Quale ha corattato? La granata L1 L1 Bravo Eps Eh l'ho ucciso me Sì Non sai quante Non sai quante volte L'ho ucciso uno così Io gli ho fatto Chi è Ah abbiamo vinto Abbiamo vinto bene Ok È stato più bravo te di me stavolta Forse Che ci fossero tipo due punteggi diversi Per Un'altra Bellissima Un'altra mini classifica Di Mr.L E' bellissima Ok Ah 9 10 minuti E' ben giocatore Vediamo un po' se siamo primi Non dico Guarda Sì Sì Reanimazioni Bravo Due Due Si sono passato con la seringa A tirare l'inculo A quelli che passavano Io ho un po' battle pack Battle no Però ciò fa capire quanto Eh Sono bravi i medici Che se due è un record Metà No Quasi sette Vabbè Sesti Come prima Sette sette dai Va bene Non faccia schiva Ma non siamo neanche Pro gamer Se mi strellano Se io non carico video ragazzi Per quegli fan Che ci seguono E robe varie È perché Non parte Wi-Fi A casa mia Nei tanto meno Sul mio computer Quindi io penso che Mi ritroverò a fare un sacco di gameplay Per Xbox One Quando arriverà su Fallout Sotto quel che voglia Però dovrò tipo passare Tutti quanti in chiavetta Icriz No Col cavolo Ti carichi Vi raccontiamo di questa roba Quindi al prossimo gameplay Ciao a tutti